Un cordiale buongiorno da Andrea Biagione di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 12 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 101 e 500 si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Livorno, due chilometri di coda per lavori invece in Fipi Litra, Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sullarno in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per interventi di potatura si ricorda che fino al 7 novembre sarà in vigore uno scambio di carreggiata tra Monte Rigioni e Colle Valdelsa Sud. Scambio di carreggiata a causa di lavori anche sulla statale Trebis Tiberina all'altezza dello svincolo di Sansepolcro Sud che rimarrà chiuso fino al 19 novembre in entrata e in uscita per chi viaggia verso Roma. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!